Cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Radiofonica, siamo in compagnia del professor Stefano Rodotà. Allora, recentemente lei ha pubblicato un libro, Il diritto di avere diritti. E oggi si trova a Perugia proprio per parlare dell'importanza di questi diritti, che in un momento di crisi sembra vengano un po' messi sotto attacco, no? Ma qual è il nucleo di diritti inviolabili, quelli centrali, a cui proprio un uomo non può rinunciare? E' vero, i diritti sono sotto attacco, rispetto alle esigenze dell'economia qualcuno dice che i diritti sono un lusso, che non possiamo permetterci in questo momento. Questo non solo è un errore grave, perché molti economisti hanno dimostrato che per esempio le diseguaglianze non favoriscono la crescita economica, ma poi c'è una sorta di negazione del valore della persona, del valore di ciascuno di noi, Quali sono i diritti fondamentali? Beh, i diritti fondamentali sono un po' riassunti dai principi della rivoluzione dell'89, quella francese. Libertà, eguaglianza e fraternità, che nella nostra Costituzione è chiamata solidarietà. E c'è poi una novità, per così dire, rappresentata dalla dignità della persona, che è affermata nella nostra Costituzione, perché nella Costituzione italiana si parla della dignità sociale di ciascuno, della dignità del lavoro, dell'esistenza libera e dignitosa, e che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ormai ha valore giuridico vincolante, apre questa carta, perché l'articolo 1 dice che la dignità umana è inviolabile. Questo è il nucleo che deve essere riconosciuto in qualsiasi situazione. E se vogliamo parlare dell'attualità, questo significa, per esempio, attenzione ai diritti sociali, il lavoro in primo luogo, la salute, il diritto all'abitazione, il diritto all'istruzione. Se le persone vengono private di questi diritti, come diritti e non come servizi da comprare sul mercato, certo, chi ha risorse economiche, diciamo la verità, chi è benestante, chi è ricco, compra istruzione, compra salute, compra abitazione, compra lavoro, non ne ha bisogno. E invece l'eguaglianza esige che tutti siano messi sul piano di parità. C'è qualcosa che non deve passare attraverso la mediazione del mercato. È un diritto, appunto, di ciascuno di noi fondamentale, perché su questo poi si fonda la vita libera di ciascuno. Quindi, contrariamente a quanti dicono che i diritti in realtà impoveriscono l'economia, lei afferma che i diritti ci arricchiscono tutti, che sono un bene comune, che arricchisce un popolo in generale. Ma chi è, secondo lei, che attacca i diritti e chi li dovrebbe difendere? L'attacco non ha un nome e cognome, ma nasce da un modo di guardare all'organizzazione sociale. Sono anni che si dice che l'unica vera legge alla quale noi dobbiamo dare obbedienza è una specie di legge naturale, che è la legge del mercato. Si dice che i mercati votano, i mercati giudicano, i mercati danno le indicazioni. Ora, questa subordinazione delle persone all'economia è ridurre le persone a una merce da scambiare sul mercato. Questo è assolutamente incompatibile con l'idea di democrazia, è incompatibile con l'idea del rispetto della persona come persona fornita di dignità. Quindi questo è un attacco che deve essere respinto e che, malgrado la situazione estremamente difficile che stiamo vivendo, vede in campo non solo in Italia, ma in tutto il mondo, perché questo è un fenomeno per così dire globale e planetario, molte forze che si difendono anche in paesi, la Cina, la Cina è un paese autoritario dove c'è la più grande fabbrica del mondo, la Foxcom, che produce componenti per l'informatica, un milione di dipendenti. Chi avrebbe pensato un anno fa che in quella fabbrica ci sarebbe stato uno sciopero rivendicando diritti dei lavoratori? Questo vuol dire che i diritti hanno una loro forza sociale e, ripeto, l'economia che perda la bussola dei diritti diventa un'economia a rischio. Perché? Perché se viene rotta la coesione sociale, l'economia non funziona. Chi li deve difendere? Ci sono storicamente le istituzioni che dovrebbero difendere, i legislatori che scrivono le Costituzioni, i magistrati che danno attuazione ai diritti. Oggi siamo anche al di là di tutto questo, perché ci sono cittadini che si mobilitano, cittadini che affermano i loro diritti individualmente e collettivamente nei luoghi più diversi del mondo. Se io volessi usare un'espressione un po' colorita direi che noi abbiamo dietro le spalle storie di grandi dichiarazioni dei diritti, la dichiarazione dei diritti dell'89, le Costituzioni moderne, ma oggi c'è in tutto il mondo una ininterrotta e quotidiana dichiarazione dei diritti attraverso lotte che sono l'unico contraltare per frenare i poteri economici che non hanno frontiere. Ecco perché io credo che noi ai diritti dobbiamo guardare con grande attenzione. Perfetto, noi ringraziamo il professor Rodotà. Alla prossima per Radiofonica.com è tutto.